iniziamo a salire per il sentiero numero 5 dal monte perone andando verso il sentiero 0 0 destinazione il monte capanne dove ci sono le antenne che vediamo in lontananza in cima al monte capanne c'è un bar dove fanno un eccezionale panino col salame quindi lungo la scalata bisogna concentrarsi sull'obiettivo che non deve essere né troppo lontano né troppo vicino un bellissimo buonissimo panino col salame la nuvola a forma di penna che abbiamo battezzato la pena di Dio porto occhiali semplicemente con un filo vedi cosa abbiamo qua abbiamo un cappio il nodo cappio come realizzare il nodo cappio facciamo giù il nodo cappio e vediamo che andiamo così è arrivata nel frattempo un'altra birra è arrivata un'altra birra facciamo il nodo cappio si fa così così poi facciamo un giro due giri tre giri passiamo all'interno e tiriamo così in questo modo qua diciamo Nicola che non sa ancora bere le bex perché ha fatto poco pratica si vede quest'anno allora abbiamo fatto il nodo cappio andiamo a mettere all'interno e abbiamo realizzato un un porta occhiali a me mi fanno ridere quelli che c'hanno i porta occhiali compri come si dice i babbani i babbani dei porta occhiali un vero uomo lo riconosci dal fatto che si è costruito il suo porta occhiali da se abbiamo terminato con il nostro tutorial porto occhiali questo video è stato offerto da doria buganeve e da bex aspetta è anche tempo un po' azzoletti tempi e accendire i biglietti vai in culo benissimo arrivederci ed eccoci alla cima del monte perone abbiamo terminato la nostra impresa e abbiamo con noi i bucaneve doria doria e anche il prosciutto doria manchi tu nell'aria doria che fa rima con gloria doria il biscotto delle grandi imprese la mandiamo è alla doria